Benvenuti ai nostri cari follower. Prima di entrare nei dettagli, spero che tutti voi ci sostegniate con ammirazione per questo video. Abbiamo una sfida. Vogliamo che questo video raggiunga più di 5.000 mi piace in meno di 24 ore. Grazie. Quindi, come potete vedere sulla mappa, sono previste piogge molto abbondanti in tutte le regioni d'Italia da nord a sud, a partire dalla sera di domenica 27 agosto 2023, almeno fino alla fine di questo mese. L'ultimo aggiornamento del modello europeo, come potete vedere sulla mappa davanti a voi, mette le regioni settentrionali e centrali dell'Italia, soprattutto, di fronte ad un allerta rosso scuro del pericolo di piogge molto abbondanti che potrebbero portare a grandi piene con caduta di chicchi di grandine di grandi dimensioni. Eventi molto forti, un notevole calo della temperatura. Questo temporale sarà più potente, soprattutto dalla mezzanotte di domenica alle prime ore di lunedì mattina. Tutte le regioni d'Italia, come dicevo, da nord a sud, saranno interessate dall'allarme. Soprattutto le regioni settentrionali e centrali. La quantità di pioggia potrà superare la barriera dei 350 mm, e forse anche di più in alcune zone, soprattutto al nord e al centro. Da qui l'allerta rosso scuro per tutte le regioni del nord e del centro Italia e per la Sardegna. E un'allerta in arancione per le regioni del sud. Da qui un forte colpo di stato del tempo a partire da domenica prossima notte. E i dettagli delle zone interessate proprio da questo violento temporale ve li forniremo più avanti e quando il periodo si avvicinerà di più. Finalmente sei in buona salute.